Ciao a tutti, benvenuti all'appuntamento con Scacchi e Giochi Strategici, video di oggi dedicato a uno dei più grandi geni della storia degli scacchi. Sto parlando dell'americano Nelson Filsbury. I giocatori più esperti conoscono Filsbury, è stato uno dei giocatori più fantasiosi, più geniali, di fine 800, giocatore che non diventerà mai campione del mondo, però uno di quei giocatori da considerarsi geni degli scacchi. Allora, per chi di voi ha seguito o sta seguendo la regina degli scacchi, Queen's Gambit, la serie su Netflix, la storia di Beth in realtà ha molto in comune con la storia di Nelson Filsbury, perché entrambi sono geniali, entrambi iniziano a giocare a scacchi a 16 anni, perché Filsbury impara a giocare a scacchi a 16 anni, anche se Beth nella serie impara l'orfanotrofio, gioca il primo torneo all'età dei 16 anni. Invece Filsbury inizia proprio a 16 anni, però già dopo pochi mesi si vede già che questo ragazzo è un prodigio. Altra cosa in comune con Beth è la vita sregolata, la dipendenza dal tabacco, dall'alcol, una vita dissoluta, insomma, era una persona molto dedicata, che si dedicava un po' a questi passatempi, figari, alcol, donne. Beth, ok, era una donna, però aveva anche lei dipendenza da psicofarmaci e da alcolici. Entrambi sono americani, anche se le epoche sono diverse. La storia di Beth è, come dire, collocata alla fine degli anni 50, invece Filsbury cresce alla fine del 1800, quindi siamo in due epoche completamente diverse, però ci sono molte cose in comune tra i due personaggi. Due cose su Filsbury. Filsbury giocherà poi nel circolo di New York, dove si trasferirà, lui è originario, insomma, della zona di Boston, andrà a New York per giocare contro i migliori giocatori dell'epoca americani, li batterà praticamente tutti, o comunque sarà uno dei migliori giocatori del circolo, sfiderà il campione del mondo Steinitz in una sfida particolare, dove Filsbury avrà i pezzi bianchi e un pedone di vantaggio contro il campione del mondo. Vincerà Filsbury 2-1, ma era più che altro una barracconata, no, fatta dal campione del mondo, per attirare un po' il pubblico. Certo, giocare col pedone in meno non era come giocare a pezzi pari, però all'epoca sì, i campioni facevano queste dimostrazioni. Filsbury poi farà a sua volta lui delle simultanee contro dei maestri, giocherà addirittura delle simultanee a scacchi e contemporaneamente simultanee a dama e simultanee a carte, cioè lui giocava a scacchi, a dama e a carte contemporaneamente. Durante le partite il pubblico per, insomma, un po' per curiosità, per divertimento, volvano mettere alla prova le capacità di memoria di Filsbury, scrivevano una frase su un biglietto, mettevano un numero e le davano a Filsbury. Mentre stava facendo la simultanee, lui leggeva il biglietto, leggeva la frase, lo collegava al numero e poi lo metteva dentro un cappello, gli diedero ben trenta bigliettini, poi lui li mise tutti nel cappello, lo diede di nuovo al pubblico, tiravano su a caso un foglietto e dicevano foglietto numero otto, e lui ripeteva la frase del foglietto, la ripeteva esattamente come era scritta, in più la pronunciava anche al contrario, pensate che testa poteva avere questo ragazzo, e poi tipo tiravano fuori l'altro biglietto, numero 29, lui diceva la frase, diceva la frase e la diceva anche al contrario, addirittura, anche dopo giorni, giorni dopo la simultanea, dopo l'evento, c'erano delle persone che andavano da lui, a casa sua, no, a dirgli, diciamo, 11, e lui diceva, ah sì, e gli diceva la frase di 3-4 giorni fa, della simultanea, cioè gli telefonavano, gli dicevano 14, e lui gli ridiceva la frase di quell'evento, cioè, anche dopo, passavano dei giorni, lui si ricordava le frasi, poi per complicargli la vita, negli eventi successivi, scrivevano delle parole, delle frasi in altre lingue, delle parole in greco, delle parole in latino, e lui te le diceva lo stesso, e te le diceva anche al contrario, ok, era un fenomeno, poi questo fenomeno decise, nel 1895, di recarsi in Inghilterra, per giocare il famoso torneo di Astrings, uno dei più forti tornei di tutti i tempi, Astrings era il torneo dei tornei, tutti i più grandi campioni partecipavano a questo leggendario torneo, in quella specifica edizione erano presenti tutti i più forti giocatori dell'epoca, i primi, mi sembra 22-23 giocatori dell'epoca, giocavano 21 turni, questi 21 turni, Filsbury vinse il torneo con 16 punti e mezzo su 21, davanti a Lasker, Steinitz, Taras e Cigori in compagnia Cantana, tutti i migliori erano lì. Poi tornò in America e divenne una celebrità. Cosa successe? Successe che ad un certo punto venne invitato a San Pietroburgo, in Russia, per disputare un quadrangolare contro Lasker, Steinitz e Cigori. Inizialmente doveva essere un pentagolare, perché con cinque giocatori anche Taras doveva partecipare, ma Taras declinò l'invito. Quindi giocarono praticamente i più forti quattro giocatori dell'epoca. Nel giurone di andata, era un doppio giurone all'italiano, nel giurone di andata, Filsbury dominò la classifica, era primo in classifica con un punto e mezzo o due di vantaggio, adesso non mi ricordo bene, su Lasker. Poi gli diedero la notizia che aveva contratto a Sifilide a inizio del secondo, del giurone di ritorno, cadde in depressione e perse praticamente quasi tutte le partite. Si piazzò terza su quattro. E tornò negli Stati Uniti, continuò a giocare a scacchi, ma la malattia stava cominciando a debilitarlo sempre di più a livello neurologico. Fu ricoverato più volte in clinica. Durante uno di questi ricoveri, cercò di suicidarsi lanciandosi dalla finestra, poi morì all'età di 33 anni per le complicazioni neurologiche della malattia. Sifilide, probabilmente contratta dalla sua fidanzata dell'epoca, che poi diventerà famoso. Insomma, era uno che fumava, beveva, aveva la Sifilide. Insomma, era molto sregolato, però alla scacchiera. Manteneva un'amplomb, era un signore, molto gentile, di modi cortesi, quasi impassibile alla scacchiera, no? Si fumava il suo sigaro, sembrava quasi assente dal posto in cui era, no? Persona molto disponibile con tutti, educatissima, però nella sua vita privata aveva questi vizi. Ora vi farò vedere una partita proprio del torneo di Astrings contro l'allora campione del mondo, Steinitz. Una partita incredibile. Perché incredibile? Perché all'epoca si giocava molto aggressivo, si giocavano le partite del gambetto di re, si giocava molto aperto. Filbury è stato uno dei più grandi, se non il più grande innovatore del gambetto di donna, ed infatti la serie Queen's Gambit si chiama così anche perché, facendo riferimento a Filbury, c'entra anche un po' il gambetto di donna. E lui sarà un innovatore di questa apertura, era un giocatore estroso, posizionale, aggressivo, ma posizionale. In realtà inizierà il più forte giocatore posizionale, forse era il primo grande campione posizionale della storia degli scacchi. Filbury andrà a distruggerlo sul suo terreno. Filbury ha i pezzi bianchi e andiamo a vedere questa partita. La analizzeremo, lascio la valutazione del motore, ma non per far vedere la mossa giusta, sbagliata, no. Per far vedere a livello di forza di gioco come erano all'epoca. Quindi per vedere se i giocatori potevano reggere a livello di precisione che i giocatori di oggi. Si vedrà poi in partita che non è proprio così perché i giocatori di oggi, grazie anche a loro, hanno sviluppato delle capacità teoriche e dello studio che all'epoca non avevano, a fine 1800 non avevano il progresso, il database di oggi, no. Non avevano tutta questa teoria. Giocavano praticamente alla scacchiera le partite. Le partite erano giocate sul vivo, no. Oggi è tutto preparato a tavolino, fino alla ventesima, insomma, sanno quello che fanno. Qui improvvisavano abbastanza, no. Allora, andiamo a vedere, a partita. Filbury, con i pezzi bianchi, gioca d4. Grande esperto del gambetto di donna. Steinitz gioca d5, centro bloccato. All'epoca, quando si giocava e4 o d4, i giocatori giocavano quasi tutti, su e4 e 5 e su d4 e d5, perché pensavano che bloccare il centro, bloccare, giocare la mossa simmetrica, speculativa, no, fosse la migliore. Probabilmente quello è. Pochi giocavano la siciliana all'epoca, o la francese, insomma. Erano più rare. Oppure le difese indiane su d4, ok? D4 o d5. C4, gambetto di donna. Questo è il gambetto di donna. Ma perché è il gambetto? Perché, in realtà, il bianco sacrifica il pedone c4. Sappiamo tutti noi, insomma, quelli un po' più esperti, che questo pedone alla lunga si recupera. Però un principiante può dire, beh, perde un pedone. Si perde il pedone perché il bianco vuole iniziativa, vuole essere più dinamico con i pezzi, ok? All'epoca poi i gambetti venivano quasi sempre accettati. Però quello di donna, a differenza di quello di re, spesso veniva rifiutato perché si sapeva benissimo che il pedone veniva poi recuperato. Quindi spesso si giocava la variante rifiutata. E Steinitz gioca la variante rifiutata. Gambetto di donna rifiutato. Cavallo c3, perché bisogna sempre controllare le case centrali. Quindi questo quadrato centrale, ok? Il cavallo può aiutare poi eventualmente a spingere e4 e affiancare i pedoni. Abbiamo già due pedoni affiancati, il bianco punta ad affiancarne un terzo. Il nero gioca cavallo f6 perché vuole impedire questo piano. Fa raffiancare tre pedoni al centro. Alfiere g5 va ad inchiodare il cavallo sulla regina per poter spingere e4. Vedete? Questi sono i concetti. Non si gioca a memoria. Il gambetto di donna si gioca d4, d5, c4, e6. Alfiere g5. Perché? Alfiere g5 è non un'altra mossa? Perché è una conseguenza. È una conseguenza. Conseguenza del piano del controllo della casa e4. Ok? Ti inchioda per impedire il controllo. L'obiettivo è sempre lo stesso, conquistare le case centrali. Ok. C5. Mosse più tranquille sono, senza dubbio, alfiere e7, che consiglia i principianti. C6, per sconsolidare il centro. O cavallo bd7, per difendere il cavallo nel caso della cattura. Di ricatturare il cavallo e controllare sempre la cattura. Alfiere e7 è prudente. Ok? C5, giocata da Steinitz, entra nella cosiddetta variante Tarash o semi-Tarash. Ok? Questa mossa è aggressiva. È aggressiva perché va subito a minacciare, a minare, i due pedoni affiancati del bianco, creandone altrettanti per il nero. Per i principianti è un po' complesso, no? Come posizione. Perché poi devono capire, ma cosa poi... Col bianco cosa catturo? Catturo il pedone, non lo catturo, sto fermo. Anche col nero, cioè faccio c5, ma poi dopo cosa faccio? Cambio io, aspetto che cambia lui. Sono partite complesse. La Tarash non la consiglio ai principianti. Potete, sì, cominciare a giocarla, però adesso vi spiegherò il motivo per cui è difficile da giocare. Allora, anzi, ce lo spiegheranno questi due grandi campioni. Pedone per, quindi, c per d5. Questo cambio va sempre fatto nella Tarash perché si crea il pedone isolato. Il nero è obbligato a catturare il pedone perché il cavallo è inchiodato e si viene a creare il pedone isolato. Cos'è un pedone isolato? È un pedone che non ha più altri pedoni che possono aiutarlo ad essere difeso. Per essere difeso questo pedone non ha altri pedoni. Quindi, il pedone isolato, poi, viene facilmente attaccato. Ok. Filsbury cambia, cede alla coppia degli alfieri, cosa che oggi non è più di moda fare. Cede alla coppia degli alfieri, si è capito che a gioco aperto, poi, è uno svantaggio. E vedo che questo è un gambetto di donna, però, la variante scelta la Steinitz tende a reperire il gioco. Quindi, il bianco dà la coppia degli alfieri a gioco aperto. Quindi, uno svantaggio. Ma, per avere un altro vantaggio, quale? Questo, perché il nero deve ricatturare per forza di pedone. Perché, se ricatturava di regina, il bianco catturava il pedone con il cavallo e attaccava la regina. E aveva, poi, un vantaggio di sviluppo enorme. Però, a prezzo della cessione della coppia degli alfieri, il bianco ha ottenuto una struttura pedonale del nero veramente orribile. Un pedone isolato e un pedone doppiato. Ho detto, tre isole di pedoni. Ho detto, questa è un'isola di pedoni. C'è un'interruzione di pedoni neri. Altri pedoni, altra isola. Interruzione di pedoni neri e altra isola. Mentre il bianco, invece, ha due isole di pedoni. Due isole di pedoni. Questa è un'isola di pedoni. Interruzione di pedoni bianchi. E poi, pedone, 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 pedone. Isola di pedoni. Quindi, in questo caso, il bianco ha un vantaggio strategico posizionale sulla struttura dei pedoni. Ok? Quindi possiamo dire che il bianco è in vantaggio. E tre. Perché non ha catturato il pedone? Uno poteva dire, catturo il pedone e poi catturo il pedone isolato. Il problema è che, dopo la cattura, il nero non ricattura subito con l'alfiere. Spinge il pedone in D4, minaccia il cavallo. Il cavallo deve perdere un tempo. Poi viene attaccato dall'alfiere o dal pedone. Poi deve perdere un altro tempo. E poi, con comodo, il nero recupera il pedone in C5. Avendo creato un avamposto. Quindi il pedone isolato diventa una forza. Quindi non bisogna affrettarsi a fare questa cosa qui. Intanto il pedone rimarrà isolato per tutta la partita. Ora, questa è una buona mossa perché cerca di tirar fuori l'alfiere. Alfiere 6. Steinitz gioca a bloccare la debolezza, però un po' passiva. Infatti il motore ha un vantaggio bianco abbastanza importante. Perché al giorno d'oggi si predilige uno sviluppo un po' diverso. Il mettere un alfiere a fare la parte del pedone, del grosso pedone, insomma, viene un po' contorto. All'epoca non avevano la teoria di oggi. Se non avevano i motori, quindi giocavano in modo più pratico. Ma metto l'alfiere in E6 a difesa del pedone isolato. Ora, Fisbury, perché non gioca cavallo F3 e lo gioca in D2? Uno mi potrebbe chiedere, ma giocando il cavallo in E2, l'alfiere poi non esce? Bella domanda! Il fatto è che Fisbury sta attaccando il pedone isolato. Piano di Fisbury, qual è? G3. Mettere l'alfiere in fianchetto. Attaccare dal fianchetto il pedone D5. Attaccarlo col cavallo. Mettere il cavallo in F4 e attaccare anche col cavallo. eventualmente mettere la donna in B3 e attaccare il pedone. Guardate quanti pezzi vanno ad attaccare il pedone isolato. Vedete? Questi sono scacchi, ragazzi. Cioè, non è dire mossettina, mossettina. Qua ci sono piani a lunga scadenza. Bella quest'idea, bella quest'idea. Siamo qui in 800. Andate alla profondità posizionale strategica di Fisbury. Ok? Scogliamo le frecce. Quindi, si poteva anche sviluppare il cavallo in F3. Si poteva. Ma una volta sviluppato l'alfiere, non so, in B5, dopo aver dato uno scacco, il bianco copriva col cavallo. Dopo, la colonna G rimaneva aperta. Il nero aveva un target sulla colonna G. E non puoi più fare G3 quando l'alfiere è andato via, perché poi indebolisci queste due case bianche. Ok? Quindi, sceglie il piano con lo sviluppo del cavallo in E2. Andiamo avanti. Cavallo C6, mossa di sviluppo. G3 continua col suo piano del cianchetto. Steinitz cambia al centro per allentare un po' la tensione e liberare l'alfiere delle case scuole. Ok. Cambia di pedone. Perché cambia di pedone e non di cavallo? Perché il cavallo gli serve per andare in F4. Eventualmente. Per attaccare la debolezza in D5. Il cavallo da F4 non può essere scacciato perché non ci sono più pedoni né sulla colonna E né sulla colonna G. I pedoncini per andare ad attaccare il cavallo. Questa è una casa fortissima per un pezzo del bianco. Ok? Se andiamo a cambiare questo cavallo con questo cavallo, capite bene che dopo con cosa la sfrutti? Con quale pezzo? Vedete che i cambi non sono tutti uguali. Non è che dici, beh, cambiare di cavallo è uguale che cambiare di pedone perché tanto è un cambio, non perdo niente. Non perdi niente ma perdi il piano generale, perdi il filo del piano. Ora, Steinitz va ad inchiodare il cavallo con l'alfiere. Mossa di sviluppo che inchioda. Alfiere in fianchetto. Quando aprite un fianchetto, sempre mettere l'alfiere in fianchetto. Sempre mettere il fianchetto. Mi raccomando. B4. Donna B6. Mossa aggressiva. Bianco. Di qua non può arroccare. Deve preparare la rocco lungo. Toglie la donna. Fa un po' di pressione. Sui pezzi. Un po' di pressione anche sul pedone B2. Ok. Mossa. Mossa aggressiva. Arrocco. Non preoccupatevi di arroccare su una colonna aperta quando avete la struttura di fianchetto. Ok. È molto solida. Sicuramente non potevate arroccare lungo. Cioè, poi qua c'è tutto aperto, il nero sta attaccando di qua. Arrocco lungo. Quindi sono arrocchi eterogenei. Quindi arrocchi contrapposti. E quindi ci saranno degli attacchi violenti. È un po' paradossale il fatto che il bianco che ha arroccato il corto, ovviamente attaccherà sull'ala di donna. Mentre il nero, come fa ad attaccare sull'ala di re? È più difficile. Tutti i pezzi sull'ala di donna. Quindi il bianco è in netto vantaggio. Guardate, anche il motore lo dice. Più due, quattro. Perché? È proprio una questione posizionale. Il bianco è più al sicuro. Corre. I pezzi giocano tutti contro il re avversario, no? Appiere un fianchetto. La donna. La colonna C aperta. Ok. Una buona casa per la donna, che può andare anche in A4. Fiere di fianchetto molto forte. Mentre il bianco, sull'ala dove c'è il re del bianco, che cosa c'ha per adesso? Solo un alfiere che intanto deve fare anche il guardiano qua. Può metterci al limite una torre. Ma tutti i pezzi sono di là. Filsbury attacca la donna di Steinitz. Donna A4. Attacca la donna. Fa perdere un tempo. Ok. Deve toglierla dall'attacco. Scaccia anche l'alfiere. Vedete che scaccia e in più aumenta il volume di pressione. A3 serve poi per appoggiare B5. Crea un attacco di pedoni dove c'è il re arroccato. Quindi si usano anche i pedoni, oltre ai pezzi, per attaccare R. Toglie l'alfiere. B4. Ok. Come potete vedere l'alfiere in D6 sembra forte, ma picchia sul granito. Perché Filsbury ha una struttura di fianchetto, di arrocco fianchettato. Ok. Alfiere in G5. Steinitz cerca di attivare i pezzi. O comunque cerca di cambiare qualche pezzo importante. No, quella manovra che ho detto prima. Adesso non si può fare. Il cavallo è inchiodato. L'alfiere lo controlla. Ok. Però R. Steinitz ha tamponato il piano proprio dal rembaggio sul pedone. E' vero che adesso il pedone è scoperto, no? Potrebbe catturarlo, però viene fuori un po' un pasticcio perché il nero può a sua volta ricatturare un pedone. Questo alfiere rimarrebbe poi in presa. Insomma, ci sarebbe del controgioco per il nero. Non bisogna mai dare al nero la possibilità di avere troppa attività di pezzi. Attaccare mantenendo una posizione, insomma, abbastanza tranquilla. Perché tanto l'attacco del bianco va da solo. Filsbury qui toglie il cavallo perché in A4 era un po' troppo ai lati. Stainitz vuole riposizionare i pezzi. Probabilmente venire qui con la regina e usare anche il pedone A per spingere. Minaccia veramente pericolosissime. Stainitz ricolloca i pezzi, cerca di portarli sull'ala di re per attaccare, per contraattaccare. Però vedete che il piano del bianco è più veloce. Il pedone attacca già la donna, guadagna un tempo, avanza un pedone. La donna deve spostarsi in A5, molto defilata. Donna B3 difende il pedone, tiene d'occhio il cavallo. Tiene d'occhio sempre D5. Ma Filsbury non si affretta a prendere in D5. Prima mette tutti i pezzi nella posizione migliore. Toglie il re Stainitz dalla colonna C. Filsbury minaccia l'alfiere. Allora, il motore dice che il bianco ha sprecato. Il bianco ha sprecato il vantaggio che aveva prima. Perché Filsbury ha giocato troppo manovrato, ha manovrato troppo. Il computer diceva che c'erano delle linee, penso che ci siano delle linee più dinamiche ancora. Come si poteva arrivare con più velocità ad eseguire l'attacco. Però siamo nel 1895 e i giocatori erano umani e non avevano tutta la teoria e l'esperienza di oggi. Però il bianco sta sempre meglio secondo me. Sta meglio, sta meglio. F4, ecco questo è un errore. Questo è un errore perché Filsbury non lo so cosa ha voluto fare con F4. Ora il pedone G3 è debolissimo. Ha dato un target al nero. In più questa mossa iper protettiva è un po' lenta. Non mi è piaciuta. F5, Steinitz blocca il centro. Forse poteva giocare più attivo anche lui con la torre e metterla subito sulla colonna G. Torre in D1, torre FD1. Queste sono mosse che per i principianti possono sembrare incomprensibili. E' una semplice ricollocazione dei pezzi. Sì, sono mosse che sono difficili da interpretare, no? Perché uno poteva dire, poteva metterlo sulla colonna aperta. Poteva metterlo sulla colonna C. Quindi evidentemente voleva assicurarsi che questo pedone non fosse minacciato. Non lo so. Torre di D1. Steinitz gioca una mossa, insomma, di torre. Probabilmente per controllare, aiutare il suo re, venire a controllare poi la colonna. Uno poteva dire, uno poteva, si sono accese in modo così misterioso le luci. Allora, abbiamo questi effetti speciali. Steinitz non mette la torre subito in C, perché vuole mettercene due. Vuole mettere questa torre in C e questa torre in C7, per avere il raddoppio delle torri. Cosa fa Fisbury? Torna in A4, perché vuole opporre poi un'altra torre sulla colonna e piazzare anche magari un cavallo in C5. Un caso molto buono. Steinitz mette la torre sulla colonna e qui Fisbury si inventa una spinta. B6, perché vuole andare a rovinare i pedoni dell'arrocco del nero. Ora qui bisogna fare A6, però ti ritrovi un pedone bloccatore, un pedone fastidiosissimo. Infatti Steinitz fa A6, però adesso quel pedone in B6 rimane lì. E' un chiodo che ti rimane U. E poi c'è sta roba sempre che compare. Poi il fatto che impedisce il raddoppio delle torre. Questo pedone impedisce il raddoppio. Quindi questo B6 ha molte funzioni. E allora Steinitz lo fa. La torre la mette in C6, per creare un po' di pressione, difendere l'alfiero. Insomma, magari vuole ricollocare questa torre in C8. Ok, parla di una nuova del genere. Vedete come si adattano sempre alla mossa dell'avversario? Prima c'era il piano di raddoppio delle torre. Fisbury ce l'ha impedito. E noi ne cerchiamo un'altra di strada per arrivare a raddoppiare le torre. Steinitz era il campione del mondo all'epoca. E non era un piccio qualunque. Allora, alfiere in F1. Mossa strana. Queste sono le mostre dei grandi maestri, dei geni. Perché uno può dire, beh, togli l'alfiere dal punto di 5. Tanto ormai il punto di 5 era iperprotetto. Allora, come fa? L'alfiere lo togliamo e lo mettiamo magari su questa diagonale o teniamo il controllo su questa casa. Insomma, tiene il controllo su tutte queste case chiare. Sono mosse un po' difficili da capire per il principianto. Però questi sono i grandi maestri. Vedete il piano di Steinitz? Torno indietro per mettere il raddoppio. Manovra articolata di Fisbury, anche con l'altro cavallo, che vuole andare in questa casa per minacciare la torre. Ok. Alfiere di 7 probabilmente vuole andare a molestare questo cavallo. Una volta che si toglie la torre, qui il cavallo è molestato da due pezzi. A raggi X. Attacco a raggi X. Fisbury se ne frega perché guadagna un tempo sulla torre. Steinitz dice, io quando toglierò la torre, però il cavallo lo devi togliere a tua volta. Toglie la torre. Non ha altre case da mettere per poter tentare, scusate, il raddoppio. Quindi deve andare a percorso in C8. Attacca però il cavallo, il cavallo bianco. Il cavallo bianco è attaccato da due pezzi, difeso da un pezzo solo. Contate sempre quanti pezzi attaccano e quanti pezzi difendono. Infatti toglie il cavallo. E guardate che alla fine la pressione su D5, in maniera assurda, continua. Prima ha tolto il cavallo, ha spinto F4, quindi il cavallo in F4 non ci poteva più andare. Quindi non si poteva più attaccare D5 da F4. Poi ha tolto l'alziere che controllava il pedone D5 e l'ha messo in F1. Però, miracolosamente, misteriosamente, i pezzi tornano a minacciare D5. Tennis prova un controgioco. Attenzione, il motore dice gioco pari, eh. Gioco pari. Gioco pari per gli umani, è più facile giocare col bianco, sicuramente. C'è questo controgioco sul pedone G. Ed è per questo che F4 potrebbe essere stato, sicuramente è stato un errore di F1. Ora, il bianco deve stare attento. Ecco, Re in F2, all'epoca si tendeva a giocare spavaldi con il Re propositivo, no? Non avevano paura di nascondere. Cioè, andava pure di stare con Re all'aria aperta, no? Mi portava un Re in mezzo alla tormenta. Re H2, secondo me, sarebbe stata un pochino più cauta, quantomeno. Ma forse aveva paura di questo altiere, no? Mettere il Re in H2. Lo mette in F2. Ok. Tennis comincia un attacco con i pedoni. Cerca di aprire la scatola. Il Re è un po' scoperto e il Nero punta tutto su quello, sulla poca sicurezza del Re. Fillsbury blocca immediatamente quest'idea, fissa tutti i pedoni. Adesso, spinta di rottura, il Nero non ne ha più. Il Nero può solo cercare di manovrare con i pezzi. Questo alfiere è cattivo perché picchia sul suo pedone. Questo alfiere picchia sui pedoni del bianco. L'attore è l'unico pezzo che ha attività. Dovrebbe cercare di raddoppiare sulla G. La donna qui è isolata. Fa niente. È in prepensionamento. E allora bisogna cercare qualcosa. A questo punto ha detto, se io devo tenere un alfiere chiuso, lo cambio. Però il motore dice cambiare la coppia degli alfieri, ridarla. Non lo convince tanto. La leggeriscia prende il pedone. E la donna è attaccata. La donna cattura il pedone in b6. Toglie quel fastidio. Toglie quel fastidio. Però ne arriva un altro. Arriva un altro fastidio. Alfiere in e2. Questa è una mossa molto sottile. Molto sottile. Perché poteva già ricatturare il pedone in d5. Ma Filbury ha voluto mettere prima l'alfiere, che stava facendo poco in f1. Lo vuole mettere in f3. Perché da f3, oltre a riprendere il controllo su d5, minaccia il pedone h5. Guardate che i pedoni del nero sono tutti su casa chiara e tutti messi sparpagliati. Abbiamo tre pedoni isolati, di cui uno doppiato. Un disastro. Tutti su casa chiara. Quindi Filbury sta già mettendo le basi sulla cattura di questi pedoni. Adesso se lo ricattura il pedone, ovviamente. Inchioda il cavallo sulla regina. Poteva cambiare anche. Tennis cerca di tenere più pezzi possibili sulla scacchiera per creare un controgioco. Ed ecco qui il senso anche a f3. Filbury aveva già visto che la donna poteva finire in e6 e attaccare ai raggi x. La donna inchiodare questo cavallo. Avere poi due attacchi. Non ha ricatturato subito il pedone quando aveva l'alfiere in f1. Lo cattura adesso. Adesso l'alfiere va in f3 e difende tutto. Ok. Steins ci infila anche l'altro alfiere. 3 attacchi. Due difese. Qui però inizia una piccola combinazione. Il cavallo in teoria non si può salvare. Allora cosa si fa? Si attacca la regina. Tor attacca regina. Quindi guadagna un tempo. La regina ti deve spostare da quella casa fastidiosa. Allora inizia un giro di campi. Cattura il cavallo. Cattura il cavallo. Attacca la regina. Cattura un pezzo. Pezzo catturato. Il bianco cattura la regina. Il nero cattura la regina. Il bianco cattura il cavallo. Ok. Siamo arrivati ad un finale di torri. Con alfieri colore campo chiaro. E qui guardate la tecnica. Proprio guardate come si vincono le partite. Cambio cambio. Tutto cambio. Tutto pari. Pedoni pari. Torri pari. Il nero sembra aver liquidato un po' di pezzi. Sembra essersi messo un po' al sicuro. Ma tutti i pedoni. Scusate. Tutti i pedoni del nero sono su casa bianca. Tutti i pedoni del bianco sono su casa scura. E indovinate chi è che ha l'alfieri delle case chiare? Fisbury. Ecco come si vincono le partite. Ad alti livelli. Tainis cerca con la tattica. Con qualche scacco. Di ovviare questo dramma posizionato. Si copre. Ecco la torre. Qui se vengono cambiati tutti i pezzi. Soprattutto le torri. Non le alfierie. Le torri. L'alfiere delle case chiare andrà a fare un'indigestione di pedoni neri. Raddoppia le torri. Guardate il motore già da un vantaggio sostenuto al bianco. Qui cerca insomma di non perdere tutti i pedoni. Perché con le torri il nero può cercare di mangiarsi qualche pedone in più. E poi farsi il pedone passato. Ok? Questo cade. Ma Fisbury non vuole per cadere anche questo. Questo qui è una spina nel fianco. È un pedone che può cominciare a marciare. Pedone libero passato. Tiny se ne cattura uno. Però il pedone decolla. Prova a cambiare la torre che appoggia il pedone. Fisbury cambia. Prende l'alfiere. E un pedone è caduto. Ancora c'è questo qui. Impresa. E questo è libero. E la torre è su una bella colonna aperta. La torre può andare a minacciare l'alfiere e mettersi... Può andare a minacciare l'alfiere e mettersi su questa colonna e appoggiare la spinta del pedone. Fino a donno. Ok. Questo è il piano. Tiny cerca di bloccare e attaccare questo pedone. Se cade il pedone di 5, il bianco forse non vince più. Anzi, rischia di perdere. Perché ricordate che anche il nero ha dei pedoni passati, eh? Sull'ala di donno. Cattura difendendo. Cattura difendendo. Pedone di 5. Il capitale. Ma adesso lo diventa anche il pedone A. Due pedoni passati lontani. Più difficili da difendere. Questi qua sono... E' vero che sono passati, ma sono più arretrati. Ci infila una torre dietro per provare a catturare questo dannato pedone. Ma filburi. Io quando cederò questo pedone, che adesso tu me lo stai attaccando con due pezzi, io non posso difenderlo con la torre, perché sarebbe in presa. Questo cadrà, ma io ti faccio cadere questo, e poi ho tre pedoni passati. Questo è molto più avanti di questo qua. Ok. Alfiere. Fine 6. Prova a dare uno scacco. Qui se si cambiano le torri, ovviamente il bianco ha partita vinta. Stainis non le cambia. Insiste Filburi. Scacco. Adesso attivare per non fare la triplice ripetizione di mosse, sennò Stainis spazzava la partita. Adesso viene attaccata la torre, la torre deve perdere un tempo, e adesso il pedone H veleggia. Il classico pedone Bolt, il record dei 100 metri sull'H. Cattura, cattura. Ora Stainis prova a tamponare quel pedone, ormai la partita è persa. La partita è persa, con l'altro anche il motore. È salito nelle stratosfere con la valutazione. quel pedone non lo fermi neanche più con le mani. Portaci anche la torre, adesso arrivano i pedoni affiancati. Questo pedone qua, poverino, proverà a spingere, ad andare, però intanto la torre te lo stoppa. E questi sono tre, due, cioè arrivano in coppia. La torre comincia qua a difendere. Quindi due pedoni passati, liberi, uguale morte. Quindi non si può fare niente. No, i pedoni avanzano tranquilli. E qua Stainis abbandona. Ok, la partita finisce qua. Pilgrim trionferà in questo torneo, tornerà in patria, sarà un grande eroe. Sarà considerato uno dei geni della storia degli scatti. Non diventerà mai campione del mondo. Perderà la possibilità per colpa della malattia della sifilide, che all'epoca mieteva parecchie vittime. La sua vita sregolata con il tabacco e con l'alcol non ha influito granché sulla sua qualità del gioco. Perché comunque riusciva a giocare in maniera splendida. Riusciva non solo a giocare le partite normali, faceva simultanee alla cieca. Pensate che ha fatto una simultanea alla cieca contro 22 avversari. Perse solo una partita. In quella simultanea partecipò il bambino Alekin, che diventerà campione del mondo 25 anni dopo, più o meno, contro Capablanca. Quindi, insomma, corsi e ricorsi, personaggi che incrociano i loro destini. Filburi, il genio degli scatti, incontra senza conoscerlo un bambino di nome Alekin, che diventerà campione del mondo. Filburi, invece, non diventerà campione del mondo. Morirà giovane e forse trasferirà, con la sua morte, la sua energia vitale, la sua anima, la trasferirà ad Alekin, che diventerà il giocatore più brillante degli anni 20-30. Ok, con questo è tutto. Iscrivetevi al canale. Se siete giocatori principiante delle prime armi, cercherò di fare anche video didattici. Se volete mandare delle vostre partite dall'inizio, io capisco che tanti si vergognano e poi vedono che sono scarso. Ma è chiaro che se sei un principiante e vuoi migliorare, anche io ero scarso, no? Io ho incominciato a muovere i pezzi all'età di 8 anni, guardando il match Kasparov-Karpov in televisione, però fino a 17 anni non ho mai potuto fare un torneo. Ho cominciato a fare torneo a 17 anni e a 20 anni facevo già le maratone, ho giocato molti semilampo, decine e decine di semilampo ed ero per la mia età tra i più forti della mia regione. Insomma, però non avevo maestri, ero praticamente un autodidatta, c'era solo una persona quella che mi aveva un po' insegnato gli scacchi, che mi prestava dei libri, però non avevo un maestro che mi seguiva, un trainer, non avevo i motori, non avevo nulla. Qualche rivista, qualche libro, una partita alla settimana con questo signore, qualche partita nel bar qui dalla città dove giocavano altri scacchisti abbastanza bravi, certo, però io non avevo il trainer che mi poteva far salto di qualità, tutto fa tutto da solo. E quindi sono arrivato al massimo della mia forza, candidato maestro, ma io ho sempre solo giocato partite rapide e blitz, non avevo il tempo di andare a fare i festival, i tornei, quelli che durano 5-6 giorni anche per motivi logistici, economici. Io cago solo il semilampo della domenica, il semilampo, il lampo, e in quella cadenza ho anche battuto dei maestri internazionali, insomma. Sono sempre stato molto discontinuo, ho anche perso partite con giocatori molto meno, molto più deboli di me, perché io ero molto altalenante. Però, per dirvi, no, se vi sentite scarsi, ma dite di voler migliorare, di voler imparare questo gioco, dovete passare degli step. Quindi, da far schifo, a fare meno schifo, a diventare quasi accettabili, accettabili, poi da accettabili sufficienti, da sufficienti più che sufficienti, fino a diventare discreti. Poi, per diventare buoni, e più che buoni, ok, ci sono altri step. Però, se vi sentite così timorosi, no, di far vedere che siete scarsi, ma non vi preoccupate, siete in buona compagnia. C'è sempre da imparare, tutti devono imparare. Allora, per imparare, non dobbiamo avergognarsi, ok? Quindi, se volete darmi delle partite, le analizzo. Ok? Non voglio prendere in giro qualcuno, tipo uno guarda il video, ah, ma certo che quello lì che hai fatto vedere ha perso subito un pezzo in apertura, la regina in apertura, non sa muovere bene i pezzi, non ha roccato, ma che partite fai vedere? Non dovete vederla così. Dovete vedere, sto ragazzo, magari sta ragazza, stanno appena incominciando a muovere i pezzi, e io sono qui per farvi migliorare, per farvi venire soprattutto la voglia di giocare a questo splendido gioco. Ok? Non siate timidi. Fate i commenti, commentate. Io, ad esempio, vedo che nei miei video, ok, qualcuno mi ha fatto i complimenti, lo ringrazio, però qui non sono per prendere complimenti, non sono qui per pavoneggiarmi, sono qui per creare un dibattito, creare un botta e risposta, una domanda e una risposta. Delle domande del tipo, potresti farmi vedere tale apertura, potresti farmi vedere i finali di Torre, potresti farmi vedere un finale di Pedoni, potresti farmi vedere degli esercizi, oppure ho visto in quel video lì c'è qualcosa che non mi ha convinto. Ok, bene, andiamo a rivederlo. Cioè, se c'è discussione, se si anima anche un confronto, io ho vita più facile, voi imparate più in fretta, e poi ci sono altri canali, oltre al mio, consiglio, ad esempio, di andare su Twitch, dove c'è il maestro Carlo Marzano, che fa, assieme a Matteo Zoldan, sul canale CES24 Italia, che non è la piattaforma che uso io di CES, ma è un'altra piattaforma, su Twitch fanno delle puntate lunedì, giovedì, molto interessanti, loro sono maestri, sono più bravi di me, fanno dei bellissimi video, fanno degli streaming, io non faccio soltanto il mio interesse, non è che dico guardate solo il mio canale, guardate canali anche degli altri, poi fatevi un'idea, preferite un canale un po' più modesto, come questo, un po' più all'antica, no? Oppure volete un canale più bello, spettacolare, con gli effetti speciali, i fuochi d'artificio, andate, guardate un altro canale, io non mi offendo, cioè, ok, è bello creare una famiglia di scacchisti, collaborare, insomma, io vi aspetto, sono qua, fatemi domande, scriveteli, un saluto a tutti, poi se volete prendere gli scacchi soltanto per giocare così, lampo ogni tanto per togliere lo stress, e fregavane di chi vuol darvi delle lezioni, benissimo è, benissimo, però se chiedete di migliorare e di imparare, io sono qua. Ok, ciao a tutti, al prossimo video!